Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra rosa è ampia e potenzialmente possono giocare. Sia i giovani che gli anziani. Sono giocatori che hanno fatto queste categorie, sono giocatori che hanno esperienza, chi più chi meno, ma comunque ho a disposizione una rosa che mi permette anche di fare scelte. Tante volte che possono sembrare così strane, ma perché ho sotto la visione durante la settimana di giocatori che si impegnano e che vogliono cercare di rubare posto a chi in questo momento sta giocando un po' di più. Tra l'altro Matteo si è raddato per febricitanti, invece ha fatto una prestazione strabitosa, quindi i giovani abbinati a quelli meno giovani formano un gruppo veramente strabitoso. Sì, stiamo facendo bene, non ci dobbiamo rilassare, non dobbiamo pensare che sia tutto facile. Abbiamo visto domenica contro una squadra a metà classifica, ma comunque a qualità, abbiamo sofferto, abbiamo sofferto tanto. Per cui dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera e cercare di ottenere sempre il massimo. Qualche volta ci riusciamo, essendo più belli, qualche volta meno belli, però l'obiettivo è quello di cercare di fare punti possibili. Domenica, se va Renate, molti tifosi hanno ancora in mente quell'andata sciagurata, dove Renate ha trovato i gol fortunosamente su quel lancio da 50 metri. C'è la voglia di rivincita per quell'andata? C'è la voglia di fare buona prestazione, sicuramente quella partita lì fu persa, però non avevamo completamente demeritato la partita. Per cui c'è sicuramente voglia di far bene, perché è una diretta concorrente, è una squadra che gioca molto bene, il loro allenatore che io conosco molto bene è un allenatore di questa categoria, un lusso. Per cui sarà sicuramente una squadra organizzata. Noi comunque siamo una squadra che ha potenzialità buona per questa categoria e cerchiamo di fare la nostra partita, sapendo che però dall'altra parte c'è una squadra che forse è la rivelazione insieme al Savona di questo campionato. Jack De Gaspari, l'anno per il Bassano è cominciato nel migliore dei modi. Come è cominciato l'anno invece per te personalmente? Beh dai, sto finalmente bene, quindi sono contento, riesco a allenarmi con continuità, non ho più magari quelle pause che avevo ancora a novembre, a dicembre, quando anche se stavo bene, vedevo che avevo durante l'allenamento spesso delle pause, magari fisicamente, mentalmente non riuscivo ancora a stare al passo degli altri. Adesso sto bene e quindi dai spero di dare un contributo al Bassano, ecco, che manca dall'inizio dell'anno. Ci sono dei tifosi che invocano il tuo rientro, quindi significa che sei nel quadro dei tifosi e molti aspettano la tua classe per aiutare questo Bassano, insomma. Beh sì, questo mi fa piacere, sento anche domenica quando sono allo stadio e sento ecco che c'è affetto nei miei confronti, mi fa molto piacere. Sì, personalmente dai, aspetto anche io di dare un contributo. Abbiamo un bel traguardo, abbiamo un obiettivo, ecco, dobbiamo raggiungere questo traguardo importante e so che ci sarà sicuramente spazio per tutti. L'importante è farsi trovare punti, ecco. Sento che sono da mesi che sono fuori per questo infortunio, spero di trovarmi pronto tutto lì. Tra l'altro il Bassano, appunto, domenica ha ottenuto una vittoria molto importante, sofferta, ma alla fine, insomma, i tre punti sono arrivati, questo è di buon auspicio. Sì, sì, soffertissimo, ecco, non pensavamo neanche noi pensi di fare così tanta fatica. Però mi si parlava già prima della settimana che le prime partite dell'anno sono sempre particolari, perché comunque ci viene dopo la sosta, l'allenamento, abbiamo fatto un carico molto pesante di lavoro, quindi non sapevo mai, con le prime partite sono sempre un po' strane. È venuta la vittoria, dai, l'importante era iniziare bene. Adesso abbiamo narrato bene questa settimana e domenica ci aspetta una gara difficile contro la squadra che l'andata ci ha battuto, quindi vogliamo sicuramente rifarci. Sì, tra l'altro anche i tifosi hanno un brutto ricordo di quell'andata, perché è una partita che il Bassano meritava sicuramente molto di più e dove i gol sono arrivati per occasioni quasi fortuiti, insomma, quindi domenica è veramente una battaglia. Sì, 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 loro sono un'ottima squadra perché hanno comunque tre punti meno di noi con una partita in meno, quindi potrebbero essere pari punti con noi. L'importante è fare risultato, ecco, l'ideale sarà leggermente vincere, cercare anche di fare meglio 2-0 dell'andata perché sappiamo che a fine anno contano anche spesso i sconti diretti per i play-off, per la promozione, e quindi bisogna andare là a fare un'ottima gara. In settimana avete già detto sia tu che il Minster che avete lavorato molto bene, sappiamo che c'è ancora qualche infortunato, vedi Matteo, ad esempio, che si è fatto male un dito, insomma, una situazione che sta migliorando ma che a volte si complica per alcuni giocatori. Sì, beh sì, durante l'anno ci sono sempre alcuni giocatori anche degli acciacchi, chi più chi meno, Marcello che sta a botta, ma comunque dovrebbe essere, penso, disponibile, anche se magari c'è il rischio che possa avere una piccola ricaduta a questo dito, ma per il resto stiamo bene, abbiamo fatto bene e siamo pronti per andare lì a fare risultato. Un'ultima cosa, visto che siamo al giro di buona del campionato, quale squadra vede tu come potenziale vincitrice del campionato? Beh, tra tutte, sicuramente la ProPatria, quella che mi ha fatto la migliore impressione, perché comunque hanno tanta qualità, tanta quantità e con noi hanno fatto molto bene, quindi loro vedono proprio la squadra forse da battere, ecco, le altre più o meno si equilibrano e lì poi infatti sono importanti proprio gli episodi, sono importanti magari vinci a partite come domenica dove non fai bene e queste cose sono fondamentali. Grazie a tutti.